In questa puntata, un minuto di silenzio per le vittime del Moby Prince. Commissione Sanità dedicata al Centro per la Disforia di Genere. Rapolano Terme, presentata la settimana dello sport. Carte dell'identità culturale toscana, 200 giovani già in viaggio. Un minuto di silenzio in apertura del Consiglio regionale della Toscana per le vittime dell'esplosione nella centrale elettrica di Suviana e del Moby Prince. Innanzitutto bisogna non dimenticare, bisogna continuare a chiedere verità e giustizia per le 140 vittime. È incredibile come in un Paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta alle famiglie delle donne, degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. Da anni lo chiediamo a gran voce. A volte si vedono dei passi in avanti, poi si ferma bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. 33 anni dopo, famiglie, 140 famiglie, ancora attendono una risposta, la verità e la giustizia su quello che è stato uno dei più grandi drammi che abbiamo vissuto negli scorsi decenni. Sicuramente uno dei più grandi di tutta la Toscana. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia. Perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano, fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. Ancora oggi saremo a Livorno a dire mai più un dramma del genere e soprattutto verità e giustizia di nuovo. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia, dopo 33 anni ancora a buio. Per la prima volta la Camera dei Deputati, su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana, ci sarà la commemorazione delle vittime. Qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico. Perché questa vicenda ancora non ha la verità e questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. È una strage che ancora chiede e pretende verità e giustizia e il Consiglio regionale della Toscana ancora una volta ha ribadito il posizionamento, ovvero al fianco dei familiari delle vittime, fino a quando non sarà fatta piena luce su questa terribile vicenda. Dopo la relazione del Ministero della Sanità sul Centro per la disforia di genere di Careggi, lunedì 15 aprile la seduta della Commissione Sanità sarà dedicata a tutto questo tema. Quando è venuto il tema delle contestazioni e delle ispezioni del Ministero al Centro relativo alla disforia di genere di Careggi, noi abbiamo immediatamente convocato una Commissione per chiarire come stava funzionando il Centro ed era convocata l'8 febbraio del 2024. È arrivata dopo la convocazione una lettera del Ministero che ha chiesto di non procedere con l'analisi in Commissione finché l'ispezione non fosse conclusa e fosse redatta questa famosa relazione. E noi, pur non dovendo rispettare le indicazioni del Ministero, ci è sembrato opportuno seguire le indicazioni di collaborazione che il Ministero diceva e non abbiamo svolto quella Commissione rinviandola alla prima data utile successiva all'invio della relazione del Ministero. Il Ministero ha inviato la relazione all'assessorato, è arrivata lunedì e quindi noi abbiamo convocato immediatamente per la prima data utile, quindi lunedì prossimo alle 9.30, è convocata già da stamattina la Commissione Sanità che vedrà l'audizione dell'assessore Bezzini, del direttore Celli, della direttrice Matarrese e di tutta la struttura di Careggi. Quindi noi non solo ne vogliamo parlare, abbiamo interesse a carire a tutti i cittadini come funziona il centro di Careggi, sicuri della correttezza del lavoro che stanno svolgendo i professionisti di Careggi e quindi tutt'altro che quello che è stato detto oggi in Consiglio regionale. È il più grande scandalo del sistema sanitario nazionale e del sistema sanitario regionale. Il senatore Gasparri, che ringraziamo per primo, ha tirato fuori il tema della disforia di genere. Oggi la relazione del Ministero ci dice che in alcune parti non sono stati seguiti i protocolli, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza psichiatrica. Noi eravamo mesi che sosteniamo questa tesi, oggi è accertato dal Ministro, ma soprattutto abbiamo chiesto chiarezza in Consiglio regionale. Abbiamo chiesto che venga convocata la Commissione, che l'assessore relazioni e ci saremmo aspettati che su un tema così importante, che riguarda il sistema sanitario regionale, che riguarda la salute dei bambini, bambini di 10, 11, 12 anni, ai quali è stato somministrato un farmaco che si chiama triptorelina, un farmaco bloccante della crescita ormonale. Ecco, nessuno oggi si è alzato, l'assessore non ha relazionato, non ci è stato detto quali sono i termini della relazione, non ci è stato detto cosa dice il Ministero, ma semplicemente rimandano. E rimandano perché non hanno voglia di fare chiarezza, non hanno voglia di dirci cosa succede, ancora continuano a negare l'evidenza. Lì qualcosa non ha funzionato. Ci saremmo aspettati le immediate dimissioni della struttura, dei componenti della struttura dei chiareggi, ci saremmo aspettati anche un grande onestà, un passo indietro da parte dell'assessore, che non solo non sa cosa succede nella struttura dei chiareggi, ma non sa nemmeno cosa succede nei suoi uffici. La relazione è arrivata e nessuno lo sapeva. Io e il senatore Gaspari siamo stati accusati dalla sinistra di governo in questa regione, addirittura di rivelare segreti dicendo cosa era contenuto in quella risposta all'interrogazione. Quello è un atto rispettivo del senatore, avevamo tutto il diritto di dirlo, avevamo tutto il diritto di dire cosa succede in quel reparto. E in quel reparto, secondo il ministro, non vengono fatte tutte le procedure così come previsto dalla direttiva AIFA, ma anzi, vengono bypassate, non vengono rispettate, non c'è l'assistenza psichiatrica. E quei bambini, lo ripeto, di 10, 11 o 12 anni, viene somministrato senza assistenza psichiatrica un farmaco che si chiama triptorelina, che è un farmaco bloccante della crescita ormonale che non consente naturalmente ai bambini di capire che tipo di sessualità hanno. Io personalmente non l'ho letta la relazione del ministero, dove si presume, o comunque da relazioni giornalistiche, si dice che le cose non sono state fatte nella maniera corretta. Personalmente, da medico, vedo strano che i miei colleghi possano aver disatteso determinati criteri o comunque linee guida. Se lo è stato fatto, probabilmente è stato fatto per un'interpretazione errata. Quindi io ad oggi rimango garantista sull'attività dei miei colleghi di Careggi, Ritengo che se ci sono state delle anomalie volute o per superficialità, queste debbano essere colpite, perché ovviamente si parla di una situazione estremamente delicata e grave, ma voglio assolutamente rendermi conto di persona leggendo la relazione e ne ho la possibilità di poterla valutare personalmente, se oggettivamente sono state fatte queste anomalie. Allora, io su questo voglio essere molto chiaro e evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. Per noi la disforia di genere è un problema serio che deve essere trattato in maniera seria e che deve essere curato in maniera seria. Proprio per questo motivo qui pensiamo che i centri che si occupano di incongruenza ed eventualmente disforia di genere debbono avere al proprio interno un neuropsichiatra infantile che è il medico specialista che può occuparsi di una situazione come quella appunto della disforia di genere che è ritenuto essere un disturbo psichiatrico che colpisce prevalentemente bambini, adolescenti, ragazze e ragazzi. Il centro di Careggi che si è occupato in questi anni di disforia di genere è un centro che non ha al proprio interno e tutto l'azienda ospedale universitaria di Careggi non ha al proprio interno un neuropsichiatra infantile. Quindi noi riteniamo che non sia un modo serio di occuparsi della cosa e di curare la cosa. Noi abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio di questa vicenda, invece il serio timore, e su questo vorremmo essere rassicurati, che a Careggi anziché curare la disforia e l'incongruenza di genere non si sia fatta una battaglia ideologica sulla vita e sui bambini e delle bambine che si rivolgevano a quel centro. Cosa gravissima questa. L'indagine del ministero, le esternazioni a mezzo stampa, le risposte dell'assessore e del presidente Gianni in queste settimane hanno confermato quello che era il nostro timore. A Careggi non c'è un neuropsichiatra infantile che si occupa di disforia di genere. Quindi di conseguenza è stato affrontato in maniera non seria, in maniera non scientifica e questa è una questione gravissima. Non ci aspettiamo le dimissioni del direttore generale e del direttore sanitario di Careggi che non hanno controllato come dovevano controllare. Ci aspettiamo le dimissioni del direttore di partimento e del direttore del centro. Insomma, non si scherza su queste cose, non si fanno campagne ideologiche sulla vita dei bambini. Presentata la settimana dello sport internazionale a Rapolano Terme, il momento clou sarà l'arrivo della sesta tappa del Giro d'Italia. Podismo, ciclismo e territorio si tiene tutti insieme. C'è un po' un'idea di Toscana, la Toscana del turismo lento, il turismo delle bici, la possibilità di far conoscere quanta bellezza c'è nei nostri territori. Sono davvero felice di presentare oggi qui la seconda edizione dell'Ultra Marathon delle Crete Senesi, di lanciare anche l'arrivo della tappa il 9 di maggio del Giro d'Italia a Rapolano Terme, il senso di una comunità che fa dello sport uno dei valori principali, del rispetto dell'ambiente, del proprio territorio, cose che si tengono insieme. L'Ultra Marathon è un lavoro in cui abbiamo iniziato a lavorarci circa tre anni fa insieme al gruppo podistico Riccardo Valenti. Il nostro obiettivo è quello di far crescere questa corsa in maniera esponenziale nel corso dei prossimi anni e infatti nel corso di quest'anno siamo stati a presentarsi nelle varie corse podiste, soprattutto siamo stati all'estero, siamo stati a Valencia e quindi per noi è un grosso punto di partenza. che, aggiunto al discorso del Giro d'Italia, ovviamente ci porta nel mese di maggio ad avere una rappresentanza del territorio del nostro comune molto importante. Questa è stata un'occasione che l'amministrazione comunale di Rapolano e il Consiglio regionale ci hanno dato e come gruppo non potevamo tirarci indietro nel promuovere il territorio che ci circonda, le bellezze e farle conoscere a tutti i vari iscritti delle Crete Senesi Ultramarathon. Attualmente abbiamo circa 700 iscritti, per lo più sono tutti stranieri, quindi per essere il secondo evento e ancora non siamo alla fine perché le iscrizioni sono sempre aperte, contiamo di arrivare a mille forze per essere audaci e anche superarli. Dall'Oro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, è partito il viaggio dei giovani della Generazione Z, la scoperta dei territori con la Carta dell'Identità Culturale Toscana del Consiglio regionale. Questo è un progetto per fondazione importante perché, come sapete, la Regione ci dà mandato a comunicare, a divulgare e a promuovere l'identità diffusa della Regione Toscana. Questo è un progetto ideale perché lavoriamo con 10 scuole, oltre 208 studenti coinvolti, in itinerari che attraversano veramente tutta la Toscana. Vedremo nel calendario degli eventi che solo quattro sono nei capoluoghi, le scuole, il resto sono nella Toscana più diffusa e anche gli itinerari riguardano i temi veramente più ampi, da quelli storici a quelli ambientali, paesaggistici, ricordano i personaggi, siccome ricordano i singoli luoghi naturali. È un progetto molto interessante che ha coinvolto 10 scuole, ognuna proveniente dalle varie province della Regione ed è un progetto che ha alla base uno scambio culturale tra ragazze e ragazzi che, a seconda dei casi, si trovano ad essere promotori del proprio territorio verso la scuola proveniente dall'altra provincia e poi a loro volta ospiti. In un incrocio che vede scambiarsi esperienze, conoscere quello che è la realtà culturale, turistica e soprattutto all'interno di un progetto di sviluppo sostenibile che afferisce alla legge del 7 febbraio 2023. Un progetto che nasce da un'intuizione è quella di costruire le relazioni e oggi credo che sia l'elemento più importante sul quale dobbiamo lavorare e sconfiggere da una parte la solitudine delle persone che pensa di essere veramente in relazione, però se manca la dimensione relazionale umana dell'intescambio, anche quella mediata da un social o da uno schermo può diventare un elemento che allontana le persone. Questa è la filosofia e la logica con la quale è nato questo progetto. Grazie a tutti.